Buonasera, bentrovati Topic. Oggi vogliamo parlare di un'iniziativa che riteniamo sia lodevole, perché è un'iniziativa che parla al mondo degli studenti, dei giovani, spesso abbandonati a se stessi. Perché questo? Perché non vengono date delle disposizioni, delle direttive, delle indicazioni, insomma dei consigli da parte anche del gruppo docente, non solo dei familiari che spesso sono costretti anche giocoforza a subire quelle che sono le posizioni dei propri figli. Vedete l'iniziativa della Federfarma di Palermo è molto importante perché ha voluto incontrare con un progetto ben strutturato tutti i giovani all'interno di due scuole importanti di Palermo che sono la Galilei e la Cassara. Sono stati fatti oltre 400 test per poter capire come interpretassero la vita di tutti i giorni, nel senso che alcuni di loro bevono senza limitarsi, fumano senza limitarsi e i danni chiaramente sono notevoli. Immaginate che da quello che emerge, dai dati che sono stati raccolti da questo gruppo di lavoro, l'Agifar di Palermo guidati da Paolo Levantino, parlano del 30% di ridurrà l'alcol, il 50% il fumo e uno su tre smetterla di fumare. Questo è il bilancio di questo apporto dato da questi soggetti. I test sono stati fatti, come detto, su 400 persone e tra questi immaginate che si è parlato anche di sessualità e alcuni hanno pensato che per esempio la pillola anticoncezionale potesse diventare anche una sorta di pillola abortiva o che potesse tutelare in qualche modo da infezioni che si possono contrarre in questo contesto. E allora bisogna essere chiari e seri. I ragazzi devono sapere che ci sono dei limiti per qualsiasi tipo di eccesso. Quando tu pensi che questi giovani vanno di mattina già a bersi 5 drink oppure fumano così senza limitarsi, allora i danni quali sono? I danni sono che intanto se tu bevi il tuo cervello si scollega perché i danni che vengono procurati dall'eccessivo uso di alcolici è sotto gli occhi di tutti. Poi è chiaro che non dobbiamo nemmeno dimenticare le droghe, non solo il fumo. I ragazzi nei test hanno detto che tanti di loro smetteranno anche di fumare o cercheranno di limitare il fumo, ma qua c'è un problema anche di droga. Quindi è tutto attinente al fatto che bisogna trovare le soluzioni per far sì che questi giovani possano essere indirizzati verso percorsi che non sono proibitivi. Perché quando loro dicono che gli eccessi da parte dei giovani partono già dalla mattina perché non ci sono i controlli, quindi dovremmo anche ritornare al contesto familiare, ne abbiamo parlato anche in diverse occasioni. Ragazzi lasciati soli con il proprio telefonino, il proprio computer in casa, liberi di poter fare qualsiasi cosa, di assumere farmaci, di assumere liquori, di ubriacarsi, tanto non c'è nessuno che li controlla. E allora nelle scuole l'iniziativa è eccezionale perché apre il cosiddetto fasquillare, il campanello dice attenzione, attenzione, non esagerate perché quello che potrà succedervi in futuro è irreparabile. La cosa importante che voglio sottolineare è che questa iniziativa che vuole smontare le famose credenze di coloro che pensano che ci siano il vino, per esempio il vino allunga la vita, insomma delle fesserie che vengono dette ad uso e consumo, il vino allunga la vita se lo utilizzi parsimoniosamente, se tu utilizzi il vino e ti ubriachi, ti stende, non ti allunga la vita, ti uccide, così come le sigarette fumate e anche le droghe purtroppo che accompagnano i nostri giovani. Ecco, volevo dire per concludere, l'iniziativa è importante perché vedete anche le scuole di ogni ordine grado dovrebbero intraprendere questa iniziativa di Federfarma e della Fondazione Veronesi, non solo a Palermo, perché è a Palermo che è iniziata questa opera, ma bisognerebbe farlo in tutte le città siciliane, se non nazionali, perché chiaramente è un argomento molto delicato, per non lasciare da sole le famiglie, la scuola, gli enti, gli addetti ai lavori dovrebbero spendere il loro tempo per far sì che i giovani vengano educati al rispetto delle regole, questo è l'oggetto più importante. Allora, come detto, siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento, io vi ricordo sempre che avete a disposizione delle coordinate per raggiungerci, potete scriverci il vostro pensiero utilizzando redazione chiocciola spazionotizia.it il nostro sito che vi permette appunto di dilungarvi un po' in quella che è la vostra considerazione, date anche a noi la possibilità poi di darvi delle risposte anche con esperti, perché lo facciamo spesso anche con persone che possono rispondere alle vostre esigenze. E poi vi mettiamo a disposizione anche un numero telefonico, che è un numero WhatsApp, anche lì potrete registrare anche i vostri messaggi per arrivare direttamente alla nostra lettura, alla nostra redazione. Il numero, lo ricordo, è il 379-224-2420, anche qui telefonate e vedrete che avrete anche delle risposte. Come detto, attenzione e prestate particolare cura a quelle che sono le indicazioni che gli esperti vi danno, questo ovviamente allunga la vita. Grazie per avermi seguito, arrivederci. Grazie.